Buongiorno, benvenuti alla Sennesse del 14 novembre, vediamo quali sono i temi fondamentali dei giornali. Intanto ovviamente tutti quanti i giornali titolano sullo schiaffo, come dice il Corriere della Sera, ricevuto al Senato dal Governo. E lo schiaffo ricevuto al Senato dal Governo è una cosa straordinaria perché avviene, sapete su che cosa? Sul condono di Ischia o definitelo come a voi pare. Certo è che uno dei commissari eletti dal Movimento 5 Stelle, cioè quel famoso De Falco, quella specie di mito che è diventato De Falco, cioè in Italia si diventa miti se si viene contrapposti a dei delinquenti e non persone ordinarie, ma questo è diventato un mito De Falco e come sempre quando un mito fa il moralista, viene eletto da un partito dei moralisti, farà il più moralista del partito dei moralisti e quindi non potrà mettere il suo voto da mito sul cosiddetto condono di Ischia. Questi miti votano contro i grillini, è sempre fantastica, è sempre la storia miniana, ci sarà sempre uno più puro di te che ti epulerà. E così ha fatto il generale, il comandante, quel cavolo è De Falco, che in commissione lavori pubblici ha votato contro una norma del condono di Ischia e ha fatto sì che il Governo andasse sotto rispetto a quella norma. Un'altra delle considerazioni da fare rispetto a questo voto contrario fatta da De Falco sul condono di Ischia è che fino a prova contraria, buongiorno Tiziana e buongiorno Susanna, fino a prova contraria su quel condono erano contrari la componente leghista, quindi in questo straordinario governo da Terza Repubblica, un abbraccio a chi ci segue addirittura dall'Ucraina. In questo straordinario governo della Terza Repubblica cosa succede? Vediamo i leghisti che non volevano il condono su Ischia, che lo votano come dei soldati uniti e vanno avanti per la loro strada. Il Movimento 5 Stelle che ha messo il condono su Ischia, insomma loro invece hanno al loro interno la fronda. Io dico veramente straordinaria questa storia. La seconda questione di giornata riguarda invece la manovra e sostanzialmente la nostra manovra oggi doveva dare una risposta al governo alla UE che diceva, alla Commissione europea, che diceva che la nostra manovra non andava bene. Aug, Giorgio. Allora che cosa è successo? Che si sono visti ieri prima un primo vertice, poi un secondo vertice, poi Conte dall'inutile vertice di Palermo è salito a Roma e ha visto tutti quanti quelli che contano, Salvini, Di Maio, Giorgetti, Tria, insomma per decidere cosa? Che non si cambia nulla e che noi risponderemo con una letterina all'Unione europea, alla Commissione europea che noi la nostra manovra ce la teniamo così com'è e che è su due fondamentali basi che l'Europa non condivide. La prima è la crescita economica dell'Europa che l'anno prossimo sarà dell'1,5% per decreto stabilito dal nostro governo e che il deficit sarà del 2,4%. Dunque il governo non vuol cambiare né le previsioni di crescita dell'economia l'anno prossimo né cambiare il deficit di questo Paese. E conferma anche nella lettera ovviamente il reddito di cittadinanza e quota 100 che sono le due grandi manovre che compongono la finanziaria, di cui non sappiamo ancora nulla. Chiaro? Noi mandiamo le letterine ma se voi cercate di capire come funziona esattamente il reddito di cittadinanza, chi ce l'avrà, quali saranno i criteri, quali saranno i controlli, a quante chilometri massimi da casa tua può esserci il lavoro, come te lo tolgono, qual è il reddito ISE per il quale tu avrai 780, qual è il nucleo familiare, non sapete nulla e in questi dettagli ovviamente ci saranno i dati fondamentali. Detto questo, per esempio su quota 100 ancora non mi è chiaro, cioè io potrò andare in pensione a 62 anni con 38 di contributi oppure 63 anni e 38 anni di contributi, quindi è meglio definirla quota almeno 100. Su questo ad esempio non sappiamo una cosa fondamentale. Dopo che sono andato con quota almeno 100, il cumulo tra questa pensione e il lavoro, il divieto di cumulo che sappiamo ci sarà, per quanti anni dura? Voi lo sapete? Uno, due anni? Io ancora non lo so ed è fondamentale perché se io vado in pensione con un assegno ridotto e non posso lavorare, ovviamente ci penserò due volte rispetto al fatto di poter andare in pensione a poter lavorare, ovviamente come collaborazione. Sallusti riguarda questa manovra, dice tu Salvini che rispetto a Higuain, il giocatore di calcio che si è messo a litigare con l'arbitro, gli hai detto che un giocatore è pagato per avere i nervi freddi e non deve fare mento a mento con l'arbitro, io questa cosa del mento a mento non l'avevo ancora sentita. Vabbè, comunque sia, Silvia dice che c'è del marcio in quota 100, sicuro. Insomma, Sallusti che cosa dice? Dice, beh, insomma, perché allora, caro campione Salvini, che sei pagato anche tu per, e dovresti avere i nervi freddi e saldi, per quale motivo vai a mento a mento con l'Unione Europea? Insomma, è un po' ridicola la tua posizione, da una parte dice Higuain che è un campione che deve stare freddo e dall'altra tu sei il nostro campione della politica e freddo non stai. Questa è la tesi di Sallusti sul giornale e il secondo pezzo di questa tesi è quello che leggete sulla stampa, cioè quello che succederà è addirittura un fondo se noi si va a litigare con l'Unione Europea sulla procedura di infrazione che non è tanto per il deficit 2,4 eccessivo, ma per il debito, quindi una procedura di infrazione durissima che riguarda addirittura controlli trimestrali dei nostri conti, atteggiamento dell'Europa occhiuta rispetto a tutto quanto. Ecco, tutti i dettagli di questo controllo europeo sono indicati oggi dalla stampa. C'è da dire che la vera scommessa che fa questo governo, e in realtà oggi non leggo molto sui giornali, ma che Salvini e Di Maio mi hanno tante volte detto nell'intervista che gli ho fatto, è vero che c'è una procedura di infrazione che potrebbe essere durissima, ma questa procedura di infrazione, quando e se partirà, verrà gestita da una Commissione Europea che non sarà più la Commissione Europea dei Moscovici e quindi sarà una Commissione Europea più sovranista perché noi vinceremo le elezioni e quindi meno intransigente nei confronti di politiche espansive come quelle che stiamo facendo. È una grande scommessa, primo perché si deve vincere e poi se si vince bisogna vedere se tutti i paesi europei, Austria ad esempio, dove hanno vinto sovranisti, siano dell'ipotesi di lasciare fare all'Italia quello che vuole. Ultima questione riguardo a questo è il pezzo di Capone, sempre attento sul foglio, che dice una cosa sacrosanta, ieri Tria ha detto, io dico all'Europa che il PIL non si cambia perché non posso pensare che sia arbitrario il dato del PIL che cresca all'1,5%, loro mi dicono non è così, io lo faccio, com'è che ha detto? Il PIL non si negozia, cioè se l'Europa dice che l'anno prossimo cresciamo dell'1,2 io non è che scrivo 1,2, io ho scritto 1,5, ma Capone dice e ha ragione, ma il PIL dell'anno prossimo non si decide neanche per decreto a Palazzo Chigi rendendolo tanto più alto questa crescita del PIL per giustificare se ho maggior reddito maggiori spese che quelle sì sono sicure, ma il maggior reddito sicuro non è. Andiamo sugli altri temi di giornata, la politica, bello il pezzo di Dalimonte oggi che ci spiega la straordinarietà del fatto di un partito, la Lega che solo nel 2013 aveva il 4%, alle politiche del 2018 è arrivato al 17,4% e oggi le intenzioni di voto è al 31%. Oggi verrà presentato il piano della Brexit soft da Theresa May, è una cosa fondamentale per l'Unione Europea, in realtà lì il problema è come gestire l'Irlanda del Nord e le confini con l'Irlanda del Nord e soprattutto come gestire, oggi ce lo spiega bene, oltre che il Daily Mail che come sapete io leggo perché è il giornale sovranista per eccellenza nel Regno Unito, Repubblica ci spiega una tattica della May e cioè è molto interessante quella di andare a prendersi uno per uno i nuovi ministri euroscettici perché dice in branco sono cattivissimi ma presi uno per uno possono essere convinti. Su Tim dove sapete c'è stato un ribaltone al vertice ci sono due pezzi che vi segnalo, ce ne sono tantissimi su tutti i giornali, quello di Manca su Corriere della Sera che dice certo la privatizzazione non è stata fatta bene a suo tempo da Prodi però il grande problema di Tim è che dopo che è stata privatizzata la politica ci ha voluto mettere le mani sopra, vi ricorderete benissimo quanto la politica con Prodi non volle lasciare libera la gestione a Marco Tronchetti Provera e a chi vi pare a voi in quel periodo, anzi ci fecero tantissime attenzioni, piani, rovati, non rovati di Palazzo Chigi. L'altro punto di vista è quello del Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, della libera impresa, questa che ci fa due palle così sulle privatizzazioni, lasciate fare gli imprenditori, viva il mercato, meno regole, meno burocrazia eccetera, chi è che ha scritto oggi su Sole 24 Ore? Il suo direttore Tamburini che ci spiega quanto andava meglio con la STET, cioè la STET pubblica. Allora non bisogna confondere la propria infanzia che è sempre bella, è sempre carina, ci è sempre piaciuto, anch'io mi ricordo quando scrivevo di Mediobanca, è finito quel mondo. Allora un'idea sana è più forse quella di un'azienda privata che sta perdendo terreno rispetto a un'azienda pubblica, la STET, che è una specie di chimera di un passato nazionalista che mi rendo... non riesco a capire come il giornale della Confindustria possa avere una posizione di questo tipo, ma al giornale della Confindustria si passa tutto. Gli abbiamo passato il fatto che sia stata uccisa la famiglia Riva e oggi c'è l'intervista al nuovo amministratore di Arcelor Mittal che gestisce Ilva e vi ricordo che la famiglia Riva oggi, di cui uno è morto, oggi non ha ancora ricevuto una condanna di primo grado, una sendenza di primo grado per quel famoso disastro ambientale per cui le hanno tolto l'azienda e oggi in sole 24 ore intervista la famiglia che ha tolto l'azienda e Riva facendo perdere 3 miliardi di euro, chiudendo un alto forno e facendo perdere un sacco di posti di lavoro in un'industria straordinaria come quella dell'acciaio, benissimo, perfetto, questo è il sole 24 ore, favoloso, clap clap clap, bravi, numeri 1 e poi dopo fra un po' di anni ci spiegheranno per quale motivo, non so, fra un po' di anni ci spiegheranno perché va bene il governo grillino e va bene anche la decrescita felice, questo io mi aspetto dal sole 24 ore. Bene, Travaglio oggi, che è un po' più o meno la stessa cosa del sole 24 ore sulla team, ci fa la solita lezioncina e la lezioncina è fatta in maniera sempre come sempre sgradevole nei confronti della signora che si è presentata a 8 e mezzo, programma televisivo di cui lui è attore fondamentale, ci spiega perché questa signora che è quella che ha organizzato la marcia dei 25 mila, 35 mila, 40 mila, insomma lui la tratta, ecco esatto Miraldo, Travaglio contro i CTAV e dovete vedere gli argomenti, non sapete nulla, non capite nulla, questa signora è una povera sciocchina, è gente che non conta nulla, è una marcetta fatta da due, in quel caso confindustriali, no? Quando gli fa comodo sono confindustriali, io la trovo questo sapore della marcetta, come l'ha definita lui, è un sapore insopportabile, continua a stare con questa marcetta e con i CTAV e non con le lezioncine di Marco Travaglio che non solo scopro essere il più grande esperto di giustizia in Italia, ma anche di tunnel e di ferrovie, è onnisciente, sa tutto, fra un po' ci spiegherà anche l'economia. Bene, direi bravo, questo è il punto, l'industria, la locomotiva tedesca si è ridotta nella sua crescita per la prima volta del 2015 e questo è uno dei veri grandi problemi della crescita italiana, non tutto il resto. Secondo te va fatta la TAV? Mi chiede Claudio? Sì. Ciao!